Costerà circa 6.000 euro alle casse dell'ente di Palazzo Aldomoro il taglio e rimozione degli alberi caduti o malandati nell'alveo del fiume Tusciano. La messa in sicurezza sarà compito di una ditta di battipaglia con sede in via Serroni Alto, già affidataria dei lavori di adeguamento degli attraversamenti stradali di via del Centenario e di via Clarizia per prevenire la pubblica e privata incolumità degli eventi alluvionali che hanno causato non pochi danni in città a seguito della sondazione del fiume Tusciano. Per ripristinare il regolare flusso delle acque del fiume Tusciano, dagli uffici comunali hanno predisposto di rimuovere i tronchi degli alberi caduti nell'alveo lungo il tratto che attraversa battipaglia. La presenza degli alberi è corposa. Nella determina firmata dal dirigente del settore tecnico Carmine Salerno dello scorso 18 gennaio è molto probabile che inizieranno i lavori a breve, forse già nelle prossime settimane. Quindi si procederà alla messa in sicurezza scongiurando eventuali altre sondazioni che puntualmente i cittadini di Battipaglia sono costretti a vedere quasi ogni inverno. Quella che certamente molti ricordano è datata 2014 quando i residenti di via Cacciatore si ritrovarono a fare i conti con l'invasione dell'acqua del fiume Tusciano che aveva strabordato inondando la zona. La scena per molti è ancora indelebile nelle loro menti con auto e abitazioni distrutte con i residenti di piazza Cacciatore che si affidarono a un legale per chiedere i rimborsi appellandosi alla legge regionale del 2010 per il risarcimento dei danni causati dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della regione Campania. Infatti ci furono danni molto ingenti, difficili da quantizzare. Purtroppo si aspetta ancora che questi fondi arrivino ai beneficiari e sono passati quasi 8 anni. Nel mentre almeno partono i lavori per scongiurare che si ripetono altre sondazioni simili che potrebbero arrecare ulteriori ed ingenti danni in un'area cittadina che ha già dato e che vuole ritrovare serenità e tranquillità. Grazie a tutti.